il museo delle carrozze d'epoca di proprietà privata che si trova a roma e accoglie una serie di carrozze scelte in 40 anni di ricerca è vasto 3000 metri quadrati le carrozze sono di vari paesi del mondo e di varie tipologie landau spider berline coupé omnibus venè una da 15 posti che effettuava corse per cinque soldi bighe dirigenze carri da lavoro e carretti siciliani il periodo spazia dal 1700 al 1900 chiude la mostra una serie di finimenti per cavalli tra i pezzi in mostra spiccano una berlinetta regalata alla principessa sissi d'austria il carro irlandese usato da joe wayne nel film un uomo tranquillo alcuni carri affrescati del comune di roma del 1800 una dirigenza del film ombre rosse un carro napoleonico con cannone del film il barone di munchausen il landau dell'allora vescovo caro voitiva per andare a sciare a zakopane in polonia la carrozzella di anna magnani e la biga utilizzata nel film il gladiatore con russell crowe grazie a tutti